E adesso, quindi, Max, ci spostiamo completamente, andiamo in una delle serie più contente ancora in Giappone, dopo più di dieci anni. Esatto, e passiamo da un megagruppone di venticinque persone a un singolo femminile, e il numero due, sei sul pacco, Federica, che interpreta Cure Flora da Go! Princess Pretty Cure! Un bel applauso! Cure Flora da Go! Cure Flora da Go! Ciao, Pettigur! Grazie a Telemica anche per la tua esibizione Hai un regalino mi sa per il pubblico Nel mentre vi diciamo che abbiamo bisogno di tenere libero quanto più possibile il corridoio sulla destra del palco che è alla mia sinistra peraltro a tal proposito vi segnalo che ci sono un sacco di posti qua